Nel contesto dell'anno montignano abbiamo ospite oggi alla buona notizia Paolo Volpani, direttore della collezione Paolo VI a Concesio, arte contemporanea. Paolo, questa realtà mostra la grande tensione che Paolo VI aveva per l'alte e che si è concretizzata addirittura in una situazione museale vicino alla sua casa natale. Sì, effettivamente Paolo VI è stato il papa degli artisti. Paolo VI ha intrattenuto con loro un'interlocuzione privilegiata già quando era arcivescovo di Milano e poi durante il suo pontificato. In 15 anni è dedicato a temi inerenti all'arte, specificamente contemporanea, ben 70 interventi. È stato lui a volere la costituzione della collezione d'arte religiosa moderna dei Musei Vaticani, quindi la sezione dei Musei Vaticani dedicata all'arte contemporanea, e questo suo appello agli artisti, questo suo rapporto, che era quasi sempre mediato dal suo segretario personale Monsignor Macchi, ha determinato il costituirsi di questa grande raccolta d'arte del Novecento, che poi appunto Monsignor Macchi, dopo la scomparsa del Beato Montini, è arrivata all'Istituto Paolo VI di Concesio e poi appunto negli anni si è ulteriormente ampliata fino alla situazione attuale, ovvero l'allestimento museale della collezione Paolo VI, che da poco più di un anno è aperta stabilmente al pubblico tutti i giorni, eccetto la domenica e il lunedì. Quindi chi viene alla casa natale di Paolo VI, chi viene a Concesio, può normalmente accedere a questo museo? Sì, 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 tutti i giorni, dal martedì al sabato abbiamo un orario dal martedì al venerdì, dalle nove alle dodici e dalle quindici alle diciassette, mentre il sabato facciamo solo il pomeriggio, ma ampliato quindi dalle ore quattordici alle ore diciannove. Poi ovviamente se ci sono gruppi che chiedono di prenotarsi, possono farlo anche al di fuori di questi orari, ma comunque chi viene a visitare la casa natale quasi sempre poi visita anche la collezione Paolo VI, ovvero il museo d'arte. Come ogni museo non è solo una visita a quella che offrite, ma anche una serie di situazioni, di culturali, di occasioni, che alcune recenti, alcune le avete in programma. Sì, dunque, anzitutto c'è una politica che abbiamo di ampliamento della nostra raccolta, aprendoci e seguendo il Magistero Montignano anche alle espressioni artistiche di oggi. Quindi donazioni di nuove opere, comodati, ovvero opere che ci vengono prestate temporaneamente. Per esempio, sabato 7 marzo, l'arrivo e l'inaugurazione di un'opera di Giovanni Sabatini. L'anno scorso invece era arrivata la cosiddetta Pietà Velata di John Isaacson, un grande artista inglese. E poi ci sono molte attività che vanno dai laboratori didattici specifici su singoli temi, alle conferenze, insomma, un'attività molto in fervore attualmente. Sabato 14, lo segnalo, abbiamo un'iniziativa che abbiamo già sperimentato, ovvero il sabato al museo per le famiglie. Ovviamente ogni volta, secondo un tema diverso, genitori, nonni, zii possono venire al museo con bambini e gli adulti pagano i due euro dal biglietto di ingresso, i bambini entrano gratuitamente e, mentre gli adulti possono seguire una visita guidata, i bambini sono affidati ai nostri operatori didattici che conducono laboratori, percorsi. E quello di sabato 14 marzo sarà dedicato al cielo, perché ci sarà qualche giorno dopo l'eclissi di sole e allora abbiamo individuato alcune opere su questo tema, sul tema della luce, degli astri che stanno nel museo e addirittura monteremo nell'aula didattica una specie di piccolo planetario con l'aiuto dell'Unione Astrofila-Bresciani dell'Osservatorio Astronomico Serafino Zani di Lumezzane. Insomma, un'attività diversificata, tutta che nasce anche dentro questa sensibilità del Beato Paolo VI per l'arte. Esatto. Ringraziamo Paolo Bolpagni se è stato con noi. Grazie a te e a voi.